È importante, quando ci sentiamo peccatori, andare al sacramento della riconciliazione. No, Padre, ho paura, perché il prete mi bastonerà. No, non ti bastonerà il prete. Tu sai che incontrerei nel sacramento della riconciliazione? A Gesù. Gesù che ti perdona. È Gesù che ti aspetta lì. E questo è un sacramento. E questo fa crescere tutta la Chiesa. Grazie.